Corsa contro il tempo per l'approvazione in commissione bilancio della manovra attesa in aula al Senato alle 15. A bloccare il cammino ancora lo scontro tra governo e maggioranza. Sul provvedimento più atteso il super bonus edilizio al 110 per cento con la cancellazione del tetto ISEE di 25 mila euro per le villette unifamiliari ma l'intesa sarebbe stata trovata. Diverse e comunque le novità portate nel voto notturno viene prorogato il super bonus fino al 2025 ma per le aree colpite dal sisma dall'Aquila al centro Italia. Nella manovra viene prolungato da 60 a 180 giorni il termine per il pagamento delle cartelle sattoriali notificate nel primo trimestre del 2022. Con la manovra arriva anche lo stop al pagamento della cosiddetta tassa sui tavolini per bar ristoranti per i primi tre mesi del 2022. Via libera anche al rinvio di due anni fino al 2024 dell'entrata in vigore dell'IVA per il terzo settore. Inoltre vengono stanziati 10 milioni per i proprietari di case occupate abusivamente.